sei alla ricerca di idee per proporre attività e giochi motori ai tuoi bambini anche a distanza iscriviti al prossimo webinar su tecnica della scuola vedremo giochi e attività motorie che potrai proporre ai tuoi bambini anche a distanza giochi semplici da fare che i bambini potranno realizzare a casa insieme ai loro genitori anche con l'utilizzo di oggetti di uso comune in questo modo accompagneremo i bambini nel percorso di sviluppo di crescita e nell'apprendimento delle capacità motorie di base anche a distanza ti spiegherò come riuscire a far capire ai tuoi bambini le attività da fare i giochi gli esercizi anche attraverso un video che poi potrai autonomamente realizzare e inviare ai loro genitori ti aspetto al prossimo webinar su tecnica della scuola giochi di movimento a distanza